Quello che appena ho mostrato è un push up inclinato. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora andiamo a prendere una panca e la mettiamo completamente piana, posizioniamo le mani sulla nostra panca facendo attenzione a tenere il polso leggermente più aperto rispetto alla spalla e il palmo della mano ben poggiato sulla nostra panca. Andiamo a distenderci dietro quindi assumiamo la posizione di push up quindi rimaniamo a tavoletta cerchiamo di avere una riga dritta del nostro corpo dalla testa fino ai piedi. I talloni sono un pochino più stretti rispetto alle nostre anche quindi sono un pochino più chiusi rispetto alle nostre anche e non devono mai poggiare a terra quindi io devo farmi peso solo sulle punte dei piedi come se effettuassimo un push up a terra. Andiamo a spingere tutto il nostro peso in basso verso la nostra panca cercando di non appoggiare il petto sulla panca e lentamente ci portiamo su. Andiamo giù, cerchiamo di rimanere sempre con la schiena dritta e ci portiamo su, lentamente scendiamo e risaliamo. Se per caso non riusciamo a fare questo perché comunque è un push up abbastanza avanzato e allora possiamo utilizzare un ripiano più basso e andare così a poggiare le ginocchia a terra. Con la panca non è possibile effettuarlo in quanto è più alto però io posso utilizzare uno step che ve l'ho precedentemente mostrato negli altri tutorial e andare a fare il mio push up declinato con l'uso di un ripiano più piccolo e così riesco a farlo più facilitato poggiando le ginocchia. Ciao e buon allenamento! Ciao e buon allenamento!